Nuovo giro, nuova corsa, nuova esperienza agonistica in arrivo. Quella più importante, quella che mette in paio la promozione in Serie D attraverso la porta principale. Scatta domani pomeriggio la fase nazionale dei play-off di eccellenza con le gare d'andata delle semifinali. A rappresentare la Puglia nell'ultimo segmento della stagione sarà il team Altamura che ha vinto i play-off pugliesi battendo in trasferta il Bitonto nell'atto conclusivo giocato due settimane fa al Città degli Olive, grazie a questo gol di Di Benedetto. Ora sul cammino dei Murgiani nella doppia sfida di semifinale ci sarà la C-Reale. La gara d'andata si giocherà domani nel domicilio dei siciliani, fischio d'inizio al Tupparello previsto alle ore 16. Il ritorno è fissato invece sette giorni dopo al D'Angelo di Altamura. La vincente poi sfiderà nelle due partite di finale domenica 4 e domenica 11 giugno chi riuscirà a spuntarla nell'altra semifinale che metterà di fronte i Lucani del Soccer Lago Negro e i Campani del San Giorgio. Ci sono due ostacoli da superare ed eventualmente quattro partite da giocare insomma per poter brindare alla promozione in Serie D. Un passo per volta tuttavia, ricordato in settimana ai suoi Gigi Panarelli, il tecnico dei Murgiani, oltre ai lungodegenti lo grieco e fiorentino non avrà a disposizione per la trasferta del C-Reale l'infortunato disenso come già accaduto nella finale con il Bitonto. L'esterno offensivo dei Biancorossi però è recuperabile per la partita di ritorno. Ogni sbavatura, inutile nasconderlo, può essere fatale a questo punto della stagione nella corsa alla promozione in Serie D. Margini di errore sono ridotti a lumicino nei play-off. Ci vorrà davvero massima concentrazione per cento o forse più minuti. I biglietti messi a disposizione dalla società siciliana per i pugliesi infine sono 250 e saranno tutti venduti. L'attesa in città d'altronde enorme, gli altamurani non faranno mancare il loro apporto in questa fase calda della stagione.